Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi siamo qui con la primissima parte degli acquisti manga del mese di agosto 2021. Prima di cominciare però vi voglio ricordare che in descrizione sono presenti il link per la mia pagina Instagram e per il gruppo Telegram, vi aspetto dunque su quelle due piattaforme. Detto questo, mai mi sarei aspettato di dover spendere così tanto in manga nell'ottavo mese dell'anno, visto che normalmente le case editrici non mandano fuori una mazza. Quest'anno però è stato diverso, infatti Planet, J-Pop, Star Comics e chi più ne ha più ne metta hanno deciso che era bello far uscire un sacco di prodotti. E quindi eccoci qua, anche questo mese si risparmia il mese prossimo. Quindi, fatta questa premessa, potete finalmente correre in cucina a prendere dei popcorn e una bebita fresca per gustarvi al meglio questo contenuto, ma prima di far ciò, come sempre, mandiamo la nostra fantastica sigla. E come da prassi per ogni video acquisti, vi ricordo che in descrizione potete trovare anche il link per il sito Manga.me e con il codice supporto MALTA, oltre a supportare appunto il sottoscritto, avrete come da prassi del sito il 5% di sconto su tutto il catalogo e la spedizione, gratuita, sopra i 30€. Che cosa state aspettando? Correte sul loro sito e acquistate i vostri fumetti. E con questo possiamo incominciare da Planet Manga. E la prima serie di questo mese è un seinen molto ignorante che più volte mi strappò analisata durante la sua lettura e mi sto riferendo al 23esimo volume di One Punch Man. Ecco qui infatti il 23esimo volume dell'edizione italiana edita dalla Planet al prezzo di copertina di 4,90€. Ecco a voi la cover con un Saitama fierissimo in primo piano. Penso che non ci sia molto da dire su quest'opera, il manga di One e di Yusuke Morata è un qualcosa di molto divertente, molto leggero, che si fa leggere nel giro di pochissimi minuti. Infatti anche questo volume pieno di battaglie è mozzafiato e di tavole spettacolari. Anche se secondo me questo manga non dovrebbe più chiamarsi One Punch Man in quanto Saitama compare una volta ogni morte di papa, ma tipo dovrebbe chiamarsi classe S in azione, eroi di classe S, una roba del genere. Scherzi a parte rimane una lettura molto leggera che sento di consigliare soprattutto a quelle persone che cercano un manga a scazzo. Triage X, edito dalla Planet al prezzo di copertina di 7€. Ecco qui la cover del volume con vari personaggi in primo piano. Possiamo dire che è un vero e proprio miracolo il fatto che questo volume sia uscito con solamente due mesi di distanza dal ventesimo? No perché di solito ce ne mettono 7 o 8. Comunque manga molto leggero, molto divertente con una storia che comunque riesce ad intripparvi. L'unico problema è che i numeri vengono ristampati col contagocce e di conseguenza quelli indietro non si trovano più. Konosuba volume numero 3, edito dalla Planet al prezzo di copertina di 4,90€. Ed ecco qui la copertina con Darkness in tutta la sua bellezza. Serie che non è assolutamente all'altezza della sua controparte animata, ma continuo a farlo perché Konosuba è uno dei miei anime preferiti in assoluto, visto che mi fa sbellicare dalle risate tutte le volte che lo vedo. Merita per caso i soldi spesi? Mmm, diciamo così e così. Però continuerò a farlo perché come vi ho già accennato qualche secondo fa, amo la follia e le atmosfere di questo manga. Fullmetal Alchemist e in modo particolare oggi sono qui col volume numero 4 della Kanzenban. Ed eccolo qui, in tutta la sua bellezza, edito dalla Planet al prezzo di 12€. Guardate quanto è figa la cover. Ho già avuto modo di parlarne più volte sul canale, ma il mio amore per Fullmetal Alchemist sta crescendo volume dopo volume, giorno dopo giorno. I personaggi sono ben caratterizzati, la storia riesce ad intripparmi ed è piena di quei colpi di scena che ti fanno rimanere con la bocca aperta. E sono sincero, al momento dell'acquisto del primo numero non mi sarei mai aspettato che la serie dell'Arakawa potesse piacermi così tanto, ma sono stato davvero molto contento di essere smentito. Sicuramente uno shonen must have per tutti i collezionisti di manga. E se nel videoquisti di luglio vi avevo portato il quinto volume di questa serie, oggi vado a ritroso e vi porto il numero 4, e parlo di Monster. Ed ecco qui infatti il quarto volume di questa splendida serie, edita dalla Planet al prezzo di copertina di 13,90€. Ed ecco a voi la sua stupenda copertina. Serie di Naoki Urasawa che riesce nell'intento di farmi avere il pipo bello duro tutto il tempo che lo leggo. Personaggi caratterizzati alla perfezione, con una storia piena di misteri che vi lascerà a bocca aperta pagina dopo pagina. E credetemi quando vi dico che ogni volta che finisco di leggere un numero voglio leggere immediatamente quello successivo. Ed è stato un pochino un colpo al cuore per me poter reperire il numero 5 il mese scorso, ma non il numero 4 e di conseguenza mi sono dovuto arrestare nella sua lettura. Ma finalmente in questo inizio agosto posso rimediare la mia mancanza. Detto questo, un seinen spettacolare con una trama fantastica e dei personaggi riusciti alla perfezione. Un must have, questo poco ma sicuro. Passiamo ora invece a Star Comics. E il primo volume di questa casa editrice è Shaman King numero 9. Ecco qui questo splendido volume dell'edizione italiana edita da Star Comics al prezzo di copertina di 5,90€ ed ecco a voi la cover di questo numero. Nulla da dire sulla serie in sé, infatti come ben saprete e come più volte ho detto su questo canale, il manga di Ryuki Takei mi sta piacendo tantissimo, ma la cover di questo numero, almeno quella più moderna perché sotto c'è quella classica, fa abbastanza schifo. Tao Ren ha qualcosa di strano in questo numero e nulla, mi fa abbastanza cagare la cover, ma questo è l'unico appunto che mi sento di fare all'edizione curata dalla Star, che poi non è nemmeno colpa di Star Comics ovviamente. Detto questo non c'è nulla da dire, ne ho parlato 47 volte sul canale e possiamo andare avanti. Serie che mi ha fatto invece sbellicare dalle risate e che purtroppo si conclude con questo numero, Hero Hero, in particolar modo sono qui col volume numero 6. Ed eccolo qui, sempre edito dalla Star al prezzo di copertina di 5,50€. Ecco a voi la stupenda cover di questo numero. Il manga di Akira Ramoto è stata una delle letture più divertenti che io abbia mai fatto. Infatti il folle autore anche di Prison School è riuscito a farmi ridere pagina dopo pagina e farmi sbellicare in più occasioni. Credetemi quando vi dico che è uno dei manga più divertenti che potreste mai trovare sul mercato. Ovviamente non si tratta del manga perfetto, infatti la storia parte con una premessa abbastanza banale e alcuni personaggi sono caratterizzati davvero male, ma comunque resta una lettura molto leggera che vi consiglio di fare soprattutto se cercate qualcosa di divertente. E poi possiamo anche dire che il tratto del mangaka è molto figo. Penso che tutti possiamo concordare su questa cosa. Cercate per caso un manga folle? Questa è la vostra risposta. Gli ultimi due volumi di questa casa editrice sono una serie che ho incominciato a recuperare giusto il mese scorso e devo essere davvero sincero il primo volume mi è piaciuto tantissimo. Sto parlando di Mars, del quale ho recuperato i volumi numero 2 e 4. Eccoli qui infatti in tutta la loro bellezza al prezzo di 8€. Ecco qui la cover del volume numero 2 e numero 4. Manca altre perché purtroppo non sono ancora riuscito a recuperarlo, ma settimana prossima mi arriverà nella mia fumetteria di fiducia. Ripeto, il manga della Sorio è riuscito a sorprendermi in più occasioni e quindi ho deciso di dare ulteriori possibilità a questa serie e non vedo l'ora di andare avanti. E ora invece andiamo in casa a J-Pop. Il primo volume di questa casa editrice è un manga che mi sta piacendo davvero tanto e sto parlando di Noin. Ecco qui infatti il numero 4 in tutta la sua bellezza, edito appunto da J-Pop al prezzo di copertina di 7,50€. Ed ecco qui a voi la sua stupenda cover. Vorrei parlarvi tanto dell'opera di Tsutomu Takashi, ma c'è un piccolo problemino. Non mi ricordo un cazzo del volume numero 3, di conseguenza non vorrei dire delle stronzate. Per quanto riguarda i primi due numeri invece me li ricordo alla perfezione, ma al terzo è come se non l'avessi mai letto. Però su una cosa sono sicuro, è un prodotto di grande qualità. E detto così sembra che parlo tipo di un lato di un formaggio, ma vabbè. Persona 5 numero 8 ha il prezzo di copertina di 5,90€. Guardate qui quanto è bella la best girl Futaba. Cosa posso dirvi? Che dovete giocare al videogioco di Persona 5 e di non leggere il manga, o almeno recuperatelo se avete già avuto modo di giocare al capolavoro uscito su PS4, perché il medium cartaceo non è nemmeno un'unghia di quello che effettivamente il prodotto originale è. L'ultimo manga di questo video acquisti mi è stato consigliato da un mio caro amico e per una volta ho deciso di dargli retta e infatti ho recuperato il volume numero 1. Parlo di Made in Abyss, edito da J-Pop al prezzo di copertina di 7,90€. Ecco qui la stupenda cover del volume numero 1 con i due protagonisti in primo piano. C'è da dire che mi ha intreppato parecchio, soprattutto per quanto riguarda le regole dell'abisso. Infatti viene spiegato sin dal primo capitolo che chi scende fa fatica a risalire, in quanto vi sono dei problemi che insorgono la sua salute. E questo sinceramente mi è piaciuto davvero tanto, perché è una cosa abbastanza inaspettata e mai vista in questo genere di manga. Per quanto riguarda i disegni, sono davvero molto carini e ora vi faccio vedere qualche tavola. Guardate qui quanto sono carini. Arriviamo ora a un piccolo extra, si tratta di una figure che ho recuperato qualche giorno fa a un prezzo abbastanza stracciato. E parlo di questa splendida figure di Lucy della Good Smile Company. Come ben saprete non ho mai negato il mio amore per quanto riguarda il character design di Hiromashima e del suo stile di disegno. E Lucy è sempre stata uno dei miei personaggi preferiti dell'intero fairy tale, nonostante appunto poi il manga non è che mi faccia così tanto impazzire, anzi. Però avendola trovata ad un prezzo abbastanza stracciato ho detto perché no, prendiamola. Ve la faccio vedere un pochino meglio in modo tale che possiate ammirarla in tutta la sua bellezza. E con questo gli acquisti del mese si concludono qui. Fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate ma soprattutto fatemi sapere che cosa vi siete regalati. Detto questo il video si può concludere qui e io spero vi sia piaciuto e come sempre vi invito a mettere un bel mi piace, iscrivervi al canale e condividere il video con i vostri amici. Ultimissima cosa ma forse la più importante, attivate la campanellina per restare sempre aggiornati con le ultimissime novità di Maltality. E noi quindi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!